Buongiorno a tutti ragazzi, facciamo il craccio video, se vuoi continuare, Yako e Zikiwami Ho mal di gola, comincio a aver mal di gola Facciamole sotto queste, facciamo, cominciamo a fare cazzate Allora, abbiamo già due sotto queste pronte Dai, facciamo, signorina, lo so che le serve una, guarda il corpo Sì Sì, sì, lo faccio, lo faccio Se ti stanno dando problemi, aiuterò Veramente? Grazie mille Il mio nome è Yuina Lo posso ringraziare abbastanza Non preoccuparti, sono Kiryu Quindi, quando arrivano questi uomini Dovrebbero arrivare in qualche momento Ok Oh, vi vedo Quelli erano i suoi tizi Ma io vi ho già visto da qualche parte Eh, Yuina, sono venuto a vedere la mia hostess preferita Welcome Andate dove Io, ragazzi, io vi ho già visto da qualche parte Ah, beh OI Che cosa vuoi? Ecco, ho sentito che Voi venite qui a fare casino Stai andando a me? Qual è il tuo problema? No, avete rispetto per le ragazze qua Questo non è il comportamento Sperdi un cavale Oh, ma erano 30 anni Dio mio Lo dirò solo un'altra volta Smettiammi di parlare a queste ragazze Ultimo avvertimento Che diavolo Guarda, ci sono delle bici, eh Ci sono delle bici No, ma Kiryu Kiryu Cosa fai? Eh, vedi, c'è l'handicap Però c'è la moto C'è la moto C'è la moto C'è una moto E ando proprio di vicino Arrivo Moto time No, Kiryu, devi stare calma Perché Calma Prendi la bici Che non c'è nessun problema Bici, vai Sì, sì, sì Spacca La ruota Aia Va bene, va bene Ma facciamo la mano, eh Uh Dai Io immagino questo tizio che insira con la Con la moto Dai Chi è ancora vivo? Tu Che, che, tu Tu c'è ancora vivo Non più Chi è? Poi si disintegra nel lente Puff Kiryu C'è un grande mago Go Oh Quindi Avete imparato la lezione G Cavolo uomo Che direttamente Cavolo uomo Se avete imparato la lezione È meglio che non farete mai più vedere Le vostre facce a questo grab E chi diavolo sei? Chi sei tu, Yuina? Sono lo suo guardia del corpo Cosa? Io sono? Cos'è il bowser? Io sono un drone Eh, il butto fuori Eh, sono il butto fuori Io sono il butto fuori Un butto fuori Sì, giusto E se fate vedere La vostra faccia qua Sarò io a mostrarvi la porta Cavolo Ok, andate via Va Quindi Come sono andato? È stato È stato perfetto Grazie È dubito che verranno vicino a questo club di nuovo Non posso ripararti Eh Non c'è problema Questo è il po' Mi paga? Italian scarf E butto fuori Giustamente Da questa le butto fuori Va bene Queste e queste Sono più corte Le apprezzo Le apprezzo Lo sapete cosa Le apprezzo Le apprezzo Che sono più corte Oh, adesso possiamo fare questa Facciamo le kiwami move Ok, così Così Perfetto Le kiwami hit action Oh, là Ok, adesso andiamo a fare l'altra Permesso Permesso Ma lei Ma lei non Ma lei non è giapponese Ma dici Ups Pera Secondo me quella lì era tipo Non è giapponese quella lì Sono abbastanza sicuro Dai 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 Andiamo come il dragon Dopo un po' Ancora non ho le mosse Va bene Va bene Forse si entro in hit mode Aspetta ma No, comunque neanche Il dragon non tira su hit mode Neanche Neanche per sbaglio Da quello che ho visto Guardate Non so se è un bug Via Guardate Non tira su hit mode Vabbè Però se vado Aspetta mazzo questo Prima Se vado in qua Così No, non cambia niente Va bene Come veniva a testare Come veniva a testare però Puta Vabbè Comunque Uno ci prova Mi sa che non si Arriviamo a un livello decente Con Con il coso Qua non si va da nessuna parte Allora Vado a mangiare Vado a bere un attimo qua La Calfe Alps Andiamo a fare questa cosa Del Del Faximile Del Del coso Come si chiama Del Ragazzi Del Del Catfight Club Che è sta canzone Si sono curioso Vedete cos'è questo Mezu King Sono Cioè Sono Sono Bastato convinto Che sia Guardate Guardate C'è pure i comandi Che può essere diventata Che per gli adulti Sono Bastato convinto Che sia Spera adulti Ma se non lo è Potrebbe veramente Essere Un Un Gioco per famiglia Che cazzo C'è una donna In bikini Posso fare Mezu King Questa Guarda lì Eh Si Ragazzi Perché Ma dai Ma dai È il Catfight Club Sei sicuro Che vuoi darmi Tutte ste carte Oh Non preoccuparti Questi sono Dei doppioni Che avevo Ok Non sono sicuro Se sono pronto Non ho la minima idea Che gioco sia Ok Va bene Che 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 Ok Il Muschino Dovrei provarlo Ma Voglio Vedere C'è Almeno Fammi Vedere Un Attimo Dai Altre Punta Esperienza Allora Comunque questo Episodio Casseggio Eh Io Dico Cos'è Sta Roba Un Fotobook Ok Voglio fare Le foto Dai Chiri Facciamo Le foto Ti Però Dimmi C'è Un Minigame Per le Foto Ma Io Se Savo Ma Che Minigia Succede Ragazzi Che Cazzo Succede Ragazzi Perché Sì Scusi No Ah 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 Scherzavo Giuro Scherzavo Ragazzi Ragazzi Scusi 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 Oddio Che voglio questa Voglio questa Qui Sì È Bellissimo Ragazzi Perché Ne Valsa la pena Kiryu Non lo So Se Ne Valsa La Pena Speriamo Ne Sia Valsa La Pena Ok Parliamo Con questo Tizio No 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 Guarda C'è un'altra C'è un'altra Cosa qua Quindi Sono queste Le 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 cose Qua Vabbè Eh Ah Scommetto che la Cosa Non va Bene Cioè Non funziona No No Ti Sicuro Che Non Facciamo Questo Signore Eh Eh E Perché Non posso Prenderlo Che Casino Non posso Non posso Concentrarmi Tutto Stronzo Perché Fai Casino Qua State Facendo Un casino Benvenuto Sono Mi scuso Molto Questo Cliente È Incazzato Perché Non Ha Vinto All'UFO Catch Ho 10.000 Yen Credo Che non sia Impossibile C'è qualcosa Ah Quindi Questo Che sta Suggendo Per Cosa Voglio Così Banchan Sì È Un Bunchoperd Ah Ok Va Bene Lo Faccio Io Tua figlia Sembra Piuttosto Vuori Le robe Non è mia figlia È sempre Peggio È sempre Peggio Ogni Episodio È la Mia Maccia No Fammi Di È raro Che Che domandi Qualcosa Eh Eh Oh Sì 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 Va bene Uomo Va bene Non è so Stupido Perché Perché Dover fare Quella cosa Per te Ti Bagherò Scusa Ma Non ho Tutto Non ce l'ho Va bene Va bene Te lo piglio Solo perché Non ho i soldi Aspetta ma Ma non c'è qui Eccolo lì Ecco E' quello lì Aspetta un secondo Sì è quello lì Mamma mia Ho 60 ore Dai l'ho preso L'ho preso Ho preso No Che due Parle Ma Impossibile Che Parle L'ho preso Qui dietro Ragazzi Ragazzi Impossibile Merda No Perché Sì Vabbè Vaffanculo Questa cosa è impossibile Bambino Sì Va bene Impossibile Vabbè Da 20 minuti Non ci provo Ok Sì Sei chi io Come catfight Dai Non è così difficile Va bene Va bene Insomma Ragazzi Posso non sentirmi A mio agio E' bene che con catfight Non mi dava problemi Va bene Facciamo così Ok C'è cosa è più elaborato Ancora Del catfight Perché Perché è più elaborato Del catfight Trova Ma poi subito C'è Non spia Non ho comment Non ho comment Nel catfight Per favore No Skip Skip E' il catfight E' uguale Come funge Come funge Io non capisco Sinceramente Come funge Non c'è E' un modo più semplice il cut fight, eh? Ok, ah no, è la stessa cosa, ok. Ok, adesso ho capito come funziona, come cut fight però posso rifare... Eh... No, vaffanculo! E' la stessa cosa ragazzi, è rigato uguale! È rigato uguale! Perchè non mi ha tolto così tanto, scusami? Quella sto facendo nella mia vita! Vabbè dai, com'è il cut fight? Abbiamo capito ragazzi, basta! C'è... Ah, me l'hai detto? Non l'ho letto! Vabbè... Vabbè ragazzi, basta! Da mezz'ora che registro questa roba! Aiuto! Dove è Magima? Mi serve Magima? Devo sfogarmi! Non so manco come chiamare sto video! Ma perchè? Dove sei Magima? Vaffanculo! Allora, mi sono rotto le palle! Allora ragazzi, vedete che per questo programmetto di Yakuza Kiwa mi viene concluso! Se è venuto mettete un piaccio e commentate e scrivetevi! Non ci vediamo! Al prossimo video! Prima di chiesti qua cosa dite! Ah, che poco simile! Va bene! Anzi, no! Sapete... No, va bene così, basta!